Creatività urbana che diventa riqualificazione e riflessione sull'arte pubblica, in particolare sull'arte muraria, che dalle periferie ai centri ha mobilitato artisti nazionali ed internazionali, generando festival e diventando opportunità per riqualificare aree abbandonate o degradate, o ancora sottolineando la denuncia sociale. Un non convegno sull'arte urbana in tutte le sue forme, fra performance e dibattiti con artisti, istituzioni, curatori, accademici ed esperti, si è svolto questo fine settimana nella sede di Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, con diversi artisti che hanno lasciato il loro segno. Un'iniziativa promossa da Mecenate 90 e Fondazione Focus, con il patrocinio del Comune di Napoli e Fondazione con il Sud. È un progetto che ci vede uniti perché anche noi in questi anni sulla strittata abbiamo lavorato molto. Potrei citare come primo atto quello di quando divenni sindaco, liberalizzando gli artisti di strada che potevano e possono esprimersi liberamente senza pagare una tassa sul suolo della nostra città. Ma poi mano a mano ci si è strutturati, adesso da un po' di tempo è molto attivo e fattivo il tavolo della creatività urbana al Comune di Napoli dove mette insieme non solo il Comune ma tante realtà. Ma ho anche annunciato qui pubblicamente questo lavoro che stiamo mettendo in campo come città metropolitana per far espandere la street art in tutta l'area metropolitana di Napoli, quindi farne una sorta di festival che possa mettere insieme giovani artisti non solo napoletani e campani ma di tutto il mondo che possano ritrovare nella nostra città ispirazione e quindi contribuire alla riqualificazione e laddove c'è degrado portare cura e bellezza. Grazie